E anche oggi torniamo a parlare con chi ci guida nello studio perché siamo in collegamento con Mirko Giarruso di Repeat Me a cui do prima di tutto il buongiorno e il benvenuto. Ciao Mirko. Ciao, buongiorno. Allora, Repeat Me, ne parlavamo anche la scorsa settimana, è una realtà che dà supporto a chi studia, con lezioni private a prezzi accessibili, ma non solo. Abbiamo parlato della possibilità di recuperare anni scolastici, ma attenzione, per chi studia o vuole studiare, aprite bene le orecchie, Repeat Me offre anche dei corsi. Di cosa si tratta Mirko? Esattamente, abbiamo due tipologie di corsi, noi dividiamo proprio due tipologie. La prima tipologia sono i classici corsi di lingue, dove possono partecipare sia ragazzi che adulti che si apprestano ad imparare la lingua per la prima volta. E la seconda tipologia sono dei corsi un pochino più innovativi e particolari, quali corsi di contabilità, di arte, di grafica, di coding per i ragazzini delle medie. E anche qui sono corsi con piccoli numeri, quindi abbiamo dai 4, 5, massimo 8 studenti per corso, per avere un rapporto con il docente molto ristretto. Per cui insomma, per chi è studente, ma anche per chi vuole arricchire le proprie competenze, per esempio con una lingua che è una cosa, dal mio punto di vista, bellissima, piacevole da studiare, ma anche corsi che invece ci possono servire dal punto di vista poi lavorativo, insomma, dell'attività, della professione. Ma da quando sono attivi? I corsi sono attivi da ottobre in avanti e possono essere, si può inserire in ogni momento e quando ci sono 4 partecipanti viene attivato un nuovo corso. Ah, per cui insomma, anche nel caso in cui non mi si è iscritto per tempo c'è comunque la possibilità di inserirsi, anche perché poi mi insegni tu. Essendo un numero molto ristretto c'è comunque la possibilità di confronto costante con il docente. Esattamente, esattamente, si può entrare in ogni momento. Eh, questa è una bellissima iniziativa, assolutamente utile, ripeto, a chi studia e a chi invece vorrebbe o avrebbe bisogno in qualche modo di studiare e di aggiornarsi. Mirko, ti chiedo, dove possiamo trovare attivi questi corsi? Li possiamo trovare a Varese, in via Morsini 13, a Como, in via Morsini 20 e a Bursasizio, in via Morsi 16. Perfetto, queste le sedi di Repeat Me, io vi ricordo il sito internet repeatme.it se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e volete sapere e capire qualcosa di più. E io ringrazio Mirko Gianruso per tutte queste buone idee. Grazie mille a voi, buona giornata. Grazie mille a voi, buona giornata.